Un esperto di antiterrorismo a capo della polizia, 57 anni, romano, Lamberto Giannini prende il posto di Franco Gabrielli che ha affiancato per anni come suo vice prima alla Digos a Roma e di recente al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. In polizia dall'89 Giannini ha indagato sulle nuove BR arrestando i terroristi rossi responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi tra la fine degli anni 90 e gli inizi del 2000. Prima direttore del Servizio Centrale Antiterrorismo, poi alla guida della Polizia di Prevenzione un impegno lungo più di 25 anni nel contrasto all'eversione e al terrorismo interno ed internazionale. Al prefetto Giannini le congratulazioni del Ministro dell'Interno Lamorgese per una nomina frutto di un curriculum d'eccellenza, sottolinea la titolare del Viminale e di apprezzate qualità personali e professionali.